Per fare il bagno, apri l'acqua calda e lasciala scorrere finché non si riscalda, ma non troppo. Quindi, chiudi lo scarico per iniziare a riempire la vasca d'acqua e tieni vicino un asciugamano pulito con cui asciugarti quando esci. Considera di aggiungere delle bombe da bagno, dei sali di Epsom o degli oli essenziali nell'acqua mentre la vasca si riempie per creare un'esperienza più rilassante. Quando la vasca è piena per due terzi, chiudi l'acqua. Controlla la temperatura con la mano e quindi entra dentro con cautela. Per dare al tuo bagno un tocco in più, prova ad accendere qualche candela e a tenere le luci soffuse per ricreare l'effetto di una spa. Tieni la tendina della doccia tirata mentre la vasca si riempie, in modo da intrappolare il vapore e rendere il bagno più simile a una sauna. Infine, prendi un libro o una rivista se vuoi leggere durante il bagno. Ma ricorda di non prolungare il bagno oltre i 30 minuti, perché restare a mollo in acqua calda per troppo tempo può seccare la pelle.